In Commissione Libbe si è approvato il rapporto sulla confisca. Possiamo dire oggi il riutilizzo, perché questo argomento che avevamo cercato di introdurre e che aveva avuto qualche problema nell'essere accettato, anche se non è passato nel testo del rapporto, è passato però tra le premesse considerando. Quindi finalmente in Europa si parla di confisca e si parla tutti lo stesso linguaggio, ma si parla anche addirittura di riutilizzo. È un rapporto piuttosto travagliato, perché non è facile mettere insieme 27 paesi che hanno leggi diverse, che hanno anche consuetudini diverse e che non tutte considerano un problema incisivo determinante per tutti. Quindi finalmente oggi si è posto un punto fermo da cui ripartire per poter ottenere risultati ancora migliori sicuramente. La confisca è un argomento molto delicato sicuramente. Addirittura si è ricorso alla Commissione per i diritti umani, ma avere un parere giuridico per capire se si intaccava o si incidevano dei principi fondamentali. segno di una grande attenzione comunque a questo argomento che finalmente viene affrontato nella giusta dimensione.